Sì, sto andando adesso, il mio sarà più che altro un saluto istituzionale e sarà l'occasione per ribadire la necessità che le città siano coinvolte e siano finanziate sull'ottica della mobilità e delle rivoluzioni nascono nelle città, quindi nei pochi minuti che mi sono a disposizione, però sottolineerò questa cosa e quindi andrò a Palazzo Reale oggi, adesso praticamente a pranzo e poi stasera avremo la scala con la rondine nei cucini. Sindaco, il Ministro Salvini ha lanciato questa norma a Salva Milano per quanto riguarda l'edilizia, cosa ne pensi di questo? Beh, io non so ancora cosa contiene questa norma perché non mi pare che sia in nessuna versione definitiva e non credo che potrà uscire nei prossimi giorni, mi pare che ci stiano ancora lavorando, quindi vediamo cosa contiene veramente e poi commenteremo.